Bene, come ben sai, di solito si partiva e si parte il sabato mattina alle ore 9 con una nuova meditazione. Oggi siamo in un periodo particolare dove molte persone hanno la fortuna e se hanno la fortuna vanno in vacanza, si godono questo tempo che hanno a disposizione per stare con la famiglia, per stare con se stessi, per trovare energia, recuperare energia, per svuotare la mente e fare tante altre cose. Quindi ti invito in questo periodo di tempo di staccare la spina come tante persone utilizzano come modo di dire e di collegare la spina da un'altra parte perché è ovvio che mi scollego in un momento temporale da una realtà e mi collego ad un'altra realtà che è quella di energia, benessere, stare bene in compagnia, cioè trovare degli spunti per poter riposare, riposare la mente, riposare il nostro corpo e quindi è un momento importante dove puoi stare con te stessa, puoi stare con te stesso e trovare magari idee, intuizioni, suggerimenti e magari portarti un buon libro in vacanza. Come ben sai ho appena finito di scrivere un libro e presto vedrai le informazioni, sono otto principi essenziali per inventarti la tua vita. Però in questo video voglio realmente ringraziarti, poi vedrai un altro video che ti farà ovviamente sorridere perché mi troverai in settimana come ben sai ogni giovedì alle ore 12 mi troverai a fare video di formazione. Ecco, voglio dirti che in questo mese non ci saranno video di meditazione, partiremo con un video straordinario, molto importante, di meditazione il 7 settembre, però il mio suggerimento è quello di dirti di stare serena, sereno, di trovare il tuo spazio e fare cose nuove, magari crearti delle nuove abitudini, abitudini che ti portino verso il tuo benessere, verso la tua armonia. Perché quando hai armonia l'hai compreso anche tu che fai delle cose veramente straordinarie nella vita. Quindi con tutto il cuore ti ringrazio, oggi il canale sta crescendo e grazie a te, grazie alla tua condivisione che stai, penso, immagino, portando i miei video a più persone. Quindi per questo ti ringrazio. E ci vediamo presto perché in questo mese ci saranno moltissimi video formativi dove mi vedrai, vedrai il mio faccione. Mi auguro che continueremo questo percorso insieme per tanto, tanto, tanto tempo. Ci vediamo giovedì, ciao e buon sabato, intanto buon agosto.